La pianta ha le foglie in centro che fanno da canale, quando piove, tira l'acqua in mezzo e la trascinano lungo il fittone centrale, perché questa pianta ha un fittone lungo centrale, e poi ha delle radici che vanno di lato. Queste altre foglie, quando l'acqua arriva qua, la portano in quella che si chiama la drip line, cioè queste radici finiscono qua, mano a mano che le foglie crescono, l'acqua della pioggia va sempre più in là e spinge le radici a prendersi l'acqua sempre più in là. Quindi l'apparato radicale e la parte aerea della pianta crescono di pari passo. Quindi la pianta è proprio disegnata, progettata per ricevere l'acqua dall'alto. Se io gli do l'acqua qua, tutto questo meccanismo è sfalzato, la pianta ragione in un altro modo. Cioè tende a fare le radici tutte vicino a dove gli arriva l'acqua, non deve andare in fondo, non deve andare di lato. L'apparato radicale, quindi si nutre meno, fa meno associazione con i microbi e il terreno fra due piante è più morto. Se invece io irrigo dall'alto, la pianta sa benissimo la sua tecnologia, è sviluppata per distribuire l'acqua fra sé, i microbi, il suolo, in maniera efficace. Quindi irrigare dall'alto è sicuramente il modo più naturale. Ora, detto questo, ci sono dei caveat. Uno, se è fatto in pieno sole.